Ciao a tutti ragazzi di Tom's, finalmente abbiamo le specifiche tecniche di PlayStation 5 e possiamo già fare una comparazione, possiamo già trarre delle conclusioni su quale delle due console è effettivamente la più potente, la più performante ovviamente sulla carta, sì perché sulla carta poi ovviamente testeremo i giochi testeremo le console al momento dell'uscita che ricordiamo sono ancora previste per la fine di quest'anno nonostante insomma l'emergenza sanitaria che sta colpendo tutti, mondo e soprattutto la nostra amata Italia ma andiamo per punti oggi cercheremo di spiegarlo in maniera approfondita quale delle due console è la più potente iniziamo col dire che mai come in questa generazione le due aziende hanno optato per due filosofie diverse una ha pensato a una console che sia potente e si basasse sulla forza brutta mentre l'altra invece ha optato per una velocità ha optato per l'SSD quindi velocità di caricamento e velocità delle texture ma andiamo per ordine partiamo dalla GPU, il cuore pulsante che muove la grafica dei giochi che tanto adoriamo e ovviamente iniziamo con il numerino che insomma è diventato ormai un importante mezzo di comunicazione per i console game vale a dire i teraflops PlayStation 5 ha una GPU da 10.28 teraflops che vanno a una velocità di 2.23 GHz con 36 compute unit RDNA 2 anche in questo caso Sony non ha specificato se avrà VRS, se avrà altri tipi di tecnologie già confermate su Xbox ma questo lo scopriremo probabilmente molto più avanti si è parlato anche pochissimo del ray tracing ma qui andremo per punti cosa ha Xbox Series X invece? Xbox Series X ha una GPU da 12 teraflops con 52 compute unit che si muovono a una velocità di frequenza di 1.800 GHz di frequenza cosa potete notare da ciò? Beh che innanzitutto PlayStation 5 ha una frequenza molto più alta rispetto a quella di Xbox Series X ma ha meno compute unit quindi almeno sulla carta possiamo già dire che la GPU di PlayStation è inferiore soprattutto per il fatto che la GPU di PlayStation si muove con una frequenza variabile cosa che non succede invece nel caso di Xbox Series X cioè sempre ovviamente tutte le GPU hanno una frequenza variabile è quasi impossibile mantenere una frequenza stabile 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 ma su PlayStation è diverso perché ha una frequenza già altissima e che molto probabilmente conferma in parte le voci che volevano una console da 9 teraflops perché qui si capisce anche da un occhio non esperto che la console era probabilmente da 9.2, 9.3 teraflops portata poi in overclock a 10.28 quindi insomma hanno cercato di migliorare il più possibile questo numero aumentando la frequenza ovviamente è una frequenza troppo alta che non può essere sempre così alta per motivi energetici per motivi anche di calore perché insomma una frequenza del genere ragazzi consuma veramente tanto e quindi l'hanno dovuta rendere variabile anche per ottimizzare meglio i titoli così come è variabile la frequenza della CPU frequenza CPU variabile che è di 3,5 GHz quindi inferiore rispetto alla CPU di Xbox Series X che viaggia a una frequenza di 3,8 GHz anche in questo caso secondo Microsoft non variabile quindi cosa succede in Sony? succede che praticamente nel momento in cui un gioco ha bisogno più della GPU rispetto alla CPU la CPU abbassa la frequenza per tenere insomma la GPU al massimo livello al contrario cambia e alza la frequenza della CPU e abbassa quella della GPU nel momento in cui insomma il gioco si trova maggiormente in difficoltà con l'utilizzo della CPU cosa significa questo nel dettaglio? significa che i teraflops di PlayStation 5 si abbasseranno quindi la potenza sarà leggermente inferiore in determinate situazioni questo comunque va chiarito una console comunque molto potente perché comunque i 10 teraflops rappresentano una potenza non indifferente per la console di casa Sony ma almeno lato GPU e lato CPU siamo su livelli differenti Xbox è decisamente più potente da questo punto di vista e per quanto concerne la RAM Sony utilizza lo stesso numero di RAM di Xbox Series X 16 GB di RAM soltanto che utilizzano due metodologie diverse all'interno della propria console Sony preferisce inserire su un unico canale mentre Xbox Series X le ha divise in due le ha divise in due secondo Digital Foundry una parte sarà maggiormente indirizzata verso la GPU e una parte sarà invece indirizzata verso la CPU Xbox ha la RAM suddivisa in 10 GB di RAM GDDR6 Optimus che si muovono a una frequenza di oltre 500 GB al secondo e poi ne ha 6 che si muovono invece a più di 300 GB al secondo al contrario Sony invece ha tutte 16 GB di RAM che si muovono a una frequenza pari a 448 GB al secondo quindi Sony ha preferito optare per una velocità di banda un po' più sicura, un po' più chiara per tutte le RAM in par comune invece per quanto riguarda Xbox Series X hanno preferito optare per una cosa un po' più particolare quindi dividendo la RAM però anche in generale sulla RAM Xbox si dimostra più veloce, comunque più performante e poi arriviamo all'SSD qui invece abbiamo una differenza percettibile più dalla parte di Sony un vantaggio dalla parte della console giapponese sì perché l'SSD è un PCI 4.0 che viaggia a una velocità di 5.5 GB al secondo più del doppio rispetto a quello di Xbox Series X che viaggia a 2.4 GB al secondo quindi una velocità di lettura incredibile che potrebbe rivoluzionare totalmente i caricamenti dei giochi su console sottolineo su console perché sufficientemente queste cose già le vediamo e a quanto pare ridurrà di tanto i tempi di caricamento passando dai 6-7 secondi di Xbox Series X ai 2-3-4 secondi massimo di PS5 addirittura Sony sta ottimizzando il tutto per permettere addirittura caricamenti istantanei ma questo non migliorerà soltanto i caricamenti nudi e crudi ma anche i caricamenti di texture i caricamenti nei giochi open world insomma ci sarà un miglioramento importante da questo punto di vista sempre con l'SSD arriviamo poi all'espandibilità come funziona? per quanto riguarda l'espandibilità anche PlayStation potrà permettere insomma un SSD aggiuntivo NV e meno non si è capito se interno o esterno alla console tuttavia lo scopriremo nel momento in cui verrà rivelato il design della piattaforma che non conosciamo per nulla attualmente Sony renderà disponibile una lista in cui si potrà decidere di acquistare un SSD di quella lista lì quindi a nostra scelta un mercato più libero rispetto a quello di Xbox Series X che invece utilizzerà un formato proprietario a schedina lo avete già visto nella parte posteriore della console e che insomma si potranno acquistare solo determinati dispositivi con entrata proprietaria quindi da questo punto di vista Sony si è dimostrata più libera nella scelta del consumatore per l'SSD arriviamo poi all'archiviazione PlayStation 5 avrà un SSD come abbiamo detto 4.0 da 5.5 GB al secondo con uno spazio di archiviazione di 858 GB è un po' pochino potrebbe essere ma sappiamo bene che quei tipi di SSD costano veramente veramente tanto questo significa che non tutti gli 800 e passa giga saranno usufruibili perché molti dovranno essere impiegati dal sistema operativo così come il terabyte dell'SSD di Xbox Series X non sarà pienamente utilizzabile per i videogiochi in questo caso l'archiviazione è più grande su Xbox Series X anche considerando ovviamente un costo inferiore dell'SSD sul ray tracing invece Sony non si è sbottonato più di tanto sappiamo che ci sarà sarà che sarà all'interno ovviamente della GPU grazie all'architettura RDNA 2 bisogna però specificare che la potenza in più di Xbox Series X lascia intendere che il ray tracing di Xbox sia superiore questo lo scopriremo solo andando avanti insomma con le informazioni che verranno rilasciate e infine abbiamo il Tempest Audio presente su PlayStation 5 invece Xbox Series X utilizzerà un sistema audio proprietario anche quello molto interessante ma che non è stato approfondito quindi ci toccherà attendere per quel motivo lì il Tempest Audio di PlayStation 5 prometterà insomma audio super realistico incapace di farci capire esattamente da dove ci stanno sparando da dove ci stanno colpendo insomma sarà un audio assolutamente impressionante e che si adatterà da persona a persona quindi è una cosa veramente molto molto interessante che però non rientra nella potenza bruta eh sì perché adesso stiamo arrivando alla conclusione del nostro video quale console è più potente? in base ai dati che vi abbiamo messo sul tavolo attualmente è la console più potente Xbox Series X è una console più bilanciata almeno sempre sulla carta che grazie all'ottimizzazione potrebbe davvero creare delle diversità importanti con PlayStation 5 però chiariamolo bene le due console non sono affatto così diverse fra loro anzi si avvicinano moltissimo da un punto di vista tecnico, hardware i giochi avranno sì delle differenze perché è chiaro avranno sì delle differenze ray tracing, risoluzione, frame rate comunque ci saranno delle differenze importanti a vantaggio di Xbox Series X ma non saranno così immense, così grandi come in realtà pensavamo all'inizio quindi insomma PlayStation è comunque una grande macchina che utilizza comunque un gran sistema di SSD che attualmente su console non avevamo mai visto staremo a vedere insomma che cosa succederà perché è ancora presto per trarre una conclusione definitiva ma attualmente a livello preliminare Xbox Series X è più potente ultima cosa prima di salutarci la retrocompatibilità sì perché ieri PlayStation 5 ha anche spiegato come funzionerà la retrocompatibilità su PlayStation 5 innanzitutto è stata smentita la possibilità di avere giochi PlayStation 1, PlayStation 2 e PlayStation 3 su PlayStation 5 ma questa è già una cosa che avevamo purtroppo già confermato precedentemente per quanto concerne i giochi PlayStation 4 ci sarà la retrocompatibilità non su tutti i titoli inizialmente si inizierà da più o meno 100 e passa ai titoli per arrivare poi a una libreria abbastanza ampia quindi Sony deve ottimizzare di volta in volta ogni titolo presente nella libreria esattamente come faceva Xbox One con i titoli Xbox 360 questo perché? perché i giochi che vengono emulati su PlayStation 5 di PlayStation 4 viaggiano a una velocità troppo alta per la console quindi devono cercare di ottimizzarli a dovere quello che ci auguriamo nei confronti di PlayStation 5 è che abbia un sistema di raffreddamento e di dissipazione del calore abbastanza efficiente così come quello energetico visto le frequenze appunto così alte ma staremo insomma a vedere che cosa succederà nel corso dei prossimi mesi niente ragazzi eccoci qua siamo alla conclusione l'abbiamo già detto Xbox Series X sulla carta è più potente pressione 5 è più veloce per quanto concerne l'SSD insomma bisogna attendere per dare un giudizio definitivo ovviamente io vi invito a commentare qua sotto nello spazio riservato nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate dite la vostra cercate di stare calmi per favore non litigate perché insomma so che queste situazioni creano un po' di conflitto ma non fatelo mai mi raccomando ovviamente io vi invito a continuare a seguirci e ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.